Straordinario luogo di ricerca teatrale fu Napoli negli anni 70, territorio di sperimentazioni avventurose, di linguaggi audaci, di elaborazioni non soltanto teoriche sull'estetica e sui metodi della scena, che segnarono un passaggio fondamentale del teatro italiano contemporaneo. Fino al 27 giugno il PAN ospiterà la mostra di Cesare Accetta dietro gli occhi, un repertorio prezioso e raro di fotografie dei magnifici protagonisti del teatro napoletano, e non solo napoletano, fra il 1976 e il 1996. Dal teatro instabile di Michele del Grosso a Libera Scena Ensemble di Gennaro Vitiello, Renato Carpentieri e Lello Serao, dal teatro studio di Caserta di Toni Servillo, all'Alfred Jarry di Mario e Maria Luisa Santella. E poi il teatro di Marigliano di Leo de Berardinis e Perla Peragallo, e a partire dagli anni 80 i più giovani Annibale Ruccello, Enzo Moscato, Mario Martone. Uno sguardo particolare è rivolto alla nobilissima figura di Antonio Neiviller, genio appartato e libero dell'avanguardia teatrale, della cui opera non restano che tracce sparse di memoria e di immagine. Questa mostra è dedicata al di là, chiaramente, a tutti i protagonisti che hanno reso possibile la realizzazione di questa storia, quindi tutti i registi, gli attori presenti. Chiaramente ha una dedica personale più sentita nella memoria di Antonio Neiviller, che è stato uno dei protagonisti. Come amministrazione è un tributo giusto a un'epoca napoletana, quella appunto del teatro di ricerca, che racconta Napoli nella sua contemporaneità un obbligo anche, diciamo, verso la memoria di un periodo che è stato così importante e fondamentale dal punto di vista della produzione artistica. Ci impegneremo con incontri e occasioni di dibattito per analizzare quel tempo e farlo rivivere nei nostri giorni. È ripercorrere un pezzo di storia della città, un pezzo di storia del teatro, quindi anche della città.